Al cimitero dell'Aquila si sta aspettando l'arrivo degli operatori della ASL per bonificare la parte in cui due giorni fa è esplosa una bara. La parte interessata dell'oculario è stata chiusa al pubblico. Il weekend di Ferragosto non ha certamente aiutato i tempi di intervento. Il provvedimento si è reso necessario in seguito a questo fenomeno particolarmente raro, ovvero l'esplosione di una bara all'interno dell'oculo. Che significa in realtà la fuoriuscita di liquido da una saldatura che non ha ben tenuto. Un fenomeno che accade circa due volte l'anno. Il servizio ai cimiteri del comune dell'Aquila ha intanto disposto tutte le squadre di intervento che, sotto la supervisione del personale dell'azienda sanitaria locale, dopo la ripulitura dell'area e il recupero del feretro, si occuperanno della nuova sepoltura. A seguito dell'esplosione di una bara nel cimitero monumentale dell'Aquila, evento abbastanza raro ma che già in passato siamo stati costretti ad affrontare, l'ufficio cimiteri si è subito attivato per interdire l'accesso all'oculario dove il fatto è avvenuto. Allo stesso tempo è stata subito contattata sia l'ASLE che una ditta specializzata per procedere a tutte le operazioni di ripulitura e rinomazione della salma che ha subito questo evento. Ovviamente è necessario avere dall'ASLE tutti i pareri e le prescrizioni necessarie affinché queste operazioni possano essere svolte in sicurezza. In giornata la situazione verrà completamente ripristinata, come detto sotto la supervisione dell'ASLE a cura di una ditta specializzata. Il cimitero dell'Aquila porta ancora evidenti segni del sisma. La ricostruzione pubblica deve fare conti con numerosi ostacoli, tra cui i progetti non ancora esecutivi e il riallocamento provvisorio delle bare nei casi di padiglioni da abbattere e ricostruire.